Oggi è sabato 13 luglio 2019. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 13 luglio 2004. All'aeroporto Narita di Tokyo viene arrestato Bobby Fischer, l'unico statunitense ad avere vinto il titolo mondiale di scacchi nel 1972 a Reykjavik. È ricordato come il match del secolo perché l'aveva contrapposto al campione uscente, il sovietico Boris Spassky, nel pieno della guerra fredda tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Una sfida carica di significati, seguita attraverso i media di tutto il mondo da milioni di persone. Ufficialmente il suo arresto viene motivato con il passaporto scaduto, ma a ordinarlo è il governo statunitense. Quello che dopo la conquista del titolo mondiale era diventato un vessillo americano contro il mondo orientale, aveva violato l'embargo imposto contro la Jugoslavia, giocando a Badua una sfida spettacolo di rivincita contro Spassky, vinta anche questa. Geniale quanto eccentrico, solitario e misogino, Fischer è apertamente antisemita, nonostante le origini ebraiche della madre e di quello che sarebbe il suo padre biologico, secondo i rapporti dell'FBI, che teneva sotto controllo la madre perché sospettata di essere una spia dei sovietici, visto che suo marito non è mai stato autorizzato ad entrare negli Stati Uniti in quanto sospettato di simpatie comuniste. Dal carattere stravagante, Fischer nel 1975 perde il titolo perché si rifiuta di difenderlo contro il sovietico Anatoli Karpov e sparisce dalla scena. Quando viene rilasciato dopo l'arresto, prende la nazionalità islandese e si rifugia a Reykjavik, dove muore improvvisamente per una insufficienza renale, proprio nella città del match contro Spassky. Era stato proprio il suo eterno rivale sovietico, al momento del suo arresto, a scrivere al presidente statunitense George W. Bush per chiederne la liberazione con queste parole. Lui è fatto così. Vorrei chiederle la grazia, la clemenza, ma se per caso non è possibile, Bobby ed io ci siamo macchiati dello stesso crimine. Mi metta in cella con Bobby Fischer e ci faccia avere una scacchiera. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile. Viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio dell'Ioastate University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. A rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni, inviandogli questo minuto di racconto, può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.